Buongiorno a tutti. Diamo avvio a questa sessione B della terza giornata del convegno, il cui titolo è Pratiche e luoghi del contemporaneo e apre la sessione Daniele Dottorini che è professore associato presso l'Università della Calabria, si occupa di teorie del cinema e di cinema del reale. I suoi interessi vertono soprattutto sul rapporto tra filosofia e teoria del cinema e anche sul cinema italiano. È professore invitato presso diverse università argentine e ha curato la raccolta di una traduzione italiana degli scritti sul cinema di Alain Badiou. Il suo volume più recente, che poi presenteremo a fine convegno, è La passione del reale, il documentario e la creazione del mondo, è editato da Mimesis. Ha scritto anche biografie su David Lynch, Renoir e James Cameron. Allora, il titolo dell'intervento di Dottorini è Vita, vite che non sono la mia. La scrittura di sé nel cinema del reale. Con il non tra parentesi, per variare un po' rispetto al riferimento a Emanuele Carrera, che c'è nel titolo. Dunque, il percorso nei 20 minuti più o meno a disposizione è chiaramente un abbozzo, è chiaramente un'idea di sviluppo, di un percorso di ricerca o comunque di individuazione di un percorso di ricerca, di un tema, di un'ossessione, di un problema che è dentro la contemporaneità. È un'ossessione che attraversa trasversalmente le pratiche artistiche, le forme espressive contemporanee e che riguarda il problema di un io che espone se stesso in varie forme. Un io che entra in scena letteralmente orientando e modulando le immagini e le narrazioni a partire da questa costruzione di se stesso. Letteratura, cinema, fotografia, pittura, arte visive e tutti gli incroci possibili. In tutte queste forme, e chiaramente è un elenco troppo lungo da dipanare e sciogliere qui, si assiste da tempo a un proliferare di pratiche del, tra virgolette, parlare in prima persona, e questa è una prima definizione che alcuni hanno dato di queste pratiche, una definizione lacunosa, problematica, come tante altre. Autoritratto, confessione, esposizione di sé, autobiografia, autofiction, diario, lettera, memoir, biodramma, autoteatro, solo per dirne alcune. Modalità di narrazione che hanno origini diverse, spesso letterarie, ma non solo, ma che trasmigrano e si ibridano da tempo nelle arti contemporanee. Molto si è scritto su questa tendenza trasversale, a partire dall'ambito della critica e della teoria della letteratura, ma non solo. Si potrebbe pensare che queste tendenze altro non siano, se non un riflesso di una mutazione antropologica, come direbbe Pasolini, della quale uno dei segni più evidenti sarebbe l'esposizione continua di sé nell'epoca dei social, come dire, queste forme sono in qualche modo il riflesso di una sorta di elemento che fa parte della vita quotidiana di tutti, però sarebbe riduttivo, sarebbe errato e riduttivo. Semmai le pratiche artistiche sono la possibilità di pensare e realizzare altre immagini rispetto a quelle di cui facciamo esperienza quotidianamente. Ora, se c'è un territorio del cinema che più di altri ha attraversato in profondità di queste tendenze, è proprio il cinema del reale, alta definizione problematica. Sono innumerevoli gli esempi, e non è il caso di fare un elenco qui, però è una tendenza facilmente riconoscibile nelle forme cinematografiche contemporanee. Ci sono numerosi studi dedicati a questi argomenti, sempre di più negli ultimi tempi, da Lisa Lebov a Laura Scaraoli, da Michael Ranoff a Pablo Piedras e molti altri. Però in un certo senso, essendo impossibile analizzare qui le contingenze, le differenze, le modalità, quello che è possibile iniziare ad affrontare è un elemento o un atto che le attraversa tutte, ed è l'atto della scrittura, tra doppie virgolette. Si tratta cioè di cominciare a impostare, perché scrittura qui è un termine problematico, si tratta cioè di cominciare a impostare una serie di coordinate teoriche a partire dalla quale innescare una riflessione su queste forme. Perché questa modalità di ricerca di un'immagine nuova costituisce un punto di vista decisamente originale per comprendere le molteplicità potenziali delle forme cinematografiche contemporanee. Scrittura è un termine che evoca immediatamente le forme della letteratura, o per converso una delle fasi che caratterizzano la produzione cinematografica. Se si pensa al termine scrittura legato al cinema, si pensa a che cosa? Si pensa a una fase in qualche modo preliminare, che può naturalmente accompagnare diverse fasi, ma è la fase della scrittura del soggetto, di un trattamento, di una sceneggiatura. Più ci si addentra però nei formi del cinema in reale, e più il termine, che in realtà fa parte del vocabolario tecnico dei registi, assume un significato molto più ampio. Faccio riferimento anche a, per esempio, la masterclass che ha tenuto ieri Alina Marazzi, quando a un certo punto ha parlato della fase del montaggio come fase, diciamo, che appartiene a una scrittura cinematografica. La scrittura è quindi un termine molto più ampio, su cui è il caso di soffermarsi, e parto da due esempi, due esempi che vengono dalla critica letteraria, dalla teoria della letteratura, che però possiamo leggere in senso cinematografico. Due posizioni contrastanti, quindi due esempi in qualche modo portano avanti due posizioni, due giudizi valutativi contrastanti. Due autori, uno è uno scrittore che poi si è dato a una forma particolare di scrittura, che è quella appunto saggistica, ma saggistica in senso molto particolare, che è David Shields, scrittore nordamericano, e l'altro è un critico letterario italiano, Gianluigi Simonetti, che ha recentemente pubblicato un testo che si intitola La letteratura circostante, nel 2017, mentre Shields ha pubblicato Reality Hunger, fame di realtà, pubblicato in Italia da Fazzi, nel 2010, poi ha avuto diverse edizioni, l'ultima nel 2017. La cosa interessante del testo di Shields è che è un testo, un po' come nei film di Godard, in cui l'unica cosa scritta da Godard era e la Puma in poi, erano le parole buongiorno e buonasera, tutto il resto erano citazioni, vampirizzazioni, furti di citazioni da altri autori. La stessa cosa è il libro di Shields. Shields scrive questo libro montando insieme citazioni di altri autori. E da una di queste citazioni, la cosa bella è che Shields non dice da dove vengono queste citazioni. Quindi in qualche modo se ne appropria, crea un montaggio all'interno del film senza il gioco del riconoscimento di questi autori. Poi l'editore lo minaccia di morte e quindi è costretto a mettere comunque un elenco di queste citazioni. Ne leggo una. In questo momento, biografia e autobiografia sono la linfa vitale dell'arte. Le abbiamo rivendicate, proprio come le generazioni passate hanno rivendicato il romanzo, la commedia ben fatta e l'arte astratta. Quanto più un'opera si fa autobiografica, intimista, confessionale, imbarazzante, tanto più si frammenta. La nostra vita non è passata al vaglio di un editor e quindi per la sua stessa natura la narrativa basata sulla realtà, nuda e cruda, si sgretola ed esplode. Ecco, qui c'è un primo punto. La dimensione autobiografica e biografica di per sé costruisce una frammentazione, un'esplosione, un sgretolamento e dunque non prevede una forma di scrittura a priori. Una forma di scrittura intesa come, e già vediamo una prima definizione, come strutturazione. Gianluigi Simonetti, critico letterario, nella letteratura circostante si chiede quali sono gli elementi caratterizzanti la letteratura contemporanea. Ripeto, leggiamolo anche da un punto di vista cinematografico, potremmo chiederci quali sono gli elementi caratterizzanti di un cinema contemporaneo. La velocità, l'ibridazione tra le forme, l'interscambio tra finzione e documento. E aggiunge Simonetti, cito, l'altra faccia di una narrativa avida di fatti veri e documenti è infatti una narrativa affascinata dai meccanismi della testimonianza personale. Molto più che in passato si afferma al presente la tendenza a narrare in prima persona. Dopotutto resta questo il modo più semplice e diretto per autenticare ciò che si scrive. Ancora, molta letteratura circostante, questa è la definizione che dà Simonetti, vive e lavora sul confine tra il finto e il vero. Certo, non smette di inventare situazioni e personaggi, ma li puntella col massiccio ricorso a storie vere. Raccontate, se è possibile, in prima persona. Vanno forte, in generale, le cosiddette scritture del sé, tra virgolette, la testimonianza diretta che produce sul lettore un effetto immediato di verifica. È diventata la forma più naturale per esprimersi. È questa nuova abitudine che comincia a provocare conseguenze sullo statuto stesso dell'autore. Fine della citazione. Ora, si possono leggere dal punto di vista cinematografico queste interpretazioni, individuando due modalità di sguardo o due giudizi opposti. Da una parte c'è il riconoscimento di una potenzialità espressiva che permette alle forme di liberarsi dalle strutture canoniche della narrazione, la vita come ciò che eccede la narrazione o la sua strutturazione, il suo incorniciamento. dall'altra il sospetto nei confronti di procedure chiamate in causa per il loro effetto di verità, la testimonianza come gesto di verificazione in Simonetti. E questo è un primo livello del discorso, appunto valutativo, che però ci costringe ad andare ancora più in dettaglio, nell'esplorare questa polarità costitutiva di questa tendenza del cinema. Allora, vorrei partire da un episodio lontano. Siamo alla seconda settimana di ottobre del 1975, un allora giovane fotografo, Dino Pedriali, viene chiamato da Pierpaolo Pasolini, ecco le immagini che sono qui sullo schermo, per realizzare un set fotografico, una serie di ritratti, fotografie di Pasolini stesso. Pasolini commissiona a Pedriali questi ritratti perché queste fotografie dovevano corredare l'edizione di Petrolio. Come sapete, il romanzo incompiuto a cui sta lavorando Pasolini nelle ultime fassi della sua vita. Seconda settimana di ottobre, quindi pochi giorni prima del 1975, quindi pochi giorni prima la morte di Pasolini stesso. Le foto vengono realizzate in due sessioni, una a Sabaudia, una a Torre di Chia, dove Pasolini aveva comprato una torre, villa, casa. E queste foto che vediamo qui sono alcune delle foto che poi hanno avuto diverse edizioni, tre edizioni, sono uscite con foto sempre diverse. Quelle foto che diventeranno famose sono il frutto di una precisa forma voluta dallo stesso Pasolini perché se Pasolini lascia una certa libertà a Pedriali in realtà c'è una messa in scena diretta registicamente da Pasolini stesso. Perché? Perché Pasolini chiede a Pedriali di mostrarlo in diverse situazioni dandovi delle indicazioni anche di composizione dell'immagine. Di mostrarlo anche nudo, molte di queste fotografie mostrano Pasolini nudo completamente all'interno della sua casa, lo mostrano mentre sta lavorando, lo mostrano mentre sta passeggiando per le strade di Sabaudia o nei dintorni della torre, villa, di Torre di Chia e lo mostrano spesso in un gioco di riflessi o vicino ai riflessi per esempio nella foto in alto a destra lo si vede attraverso una finestra o nella foto in basso lo si vede vicino ad una finestra, c'è un gioco di riflessi che spesso viene messo in mostra in queste fotografie. ora quest'episodio è centrale intanto è centrale anche perché è stato ripreso recentemente in alcuni studi su Pasolini perché da una parte queste foto sono il segno di una esposizione di sé esposizione sua tra l'altro è un termine fucoltiano che per Pasolini soprattutto il Pasolini degli ultimi anni è fondamentale l'esposizione di sé si colloca all'interno di una precisa posizione politica da parte di Pasolini una politica anzitutto delle forme letteraria e cinematografica insieme alle pratiche di conversione come per esempio proprio in quel momento il testo sulla biura della trilogia della vita che Pasolini scrive proprio in quel periodo alle pratiche cioè della parresia termine greco che significa parlare franco parlare direttamente che sembra essere in qualche modo una sorta di parola d'ordine dell'ultimo Pasolini cioè il mostrarsi come colui che parla francamente come colui che dice la verità quindi abbiurare la trilogia della vita esporsi nelle fotografie però al tempo stesso dall'altra parte appunto perché c'è una composizione c'è una precisa regia messa in scena la messa in situazione registica delle foto mostra la volontà costruttivista di Pasolini intento a creare o ricreare proiezioni di se stesso in quanto autore cioè in quanto soggetto effetto di soggettività o funzione autoriale di un autore cioè che recita se stesso che è colto nel momento di divenire colui che dice la verità colui che parla franco due visioni apparentemente contrapposte ma che anche queste possono essere messe in relazione così come abbiamo visto a partire da Schiltz e Simonetti e ci permettono in realtà di mostrare come strettamente relazionate tra loro e alla base di quello che stiamo chiamando cinematograficamente scrittura di sé i due termini chiave quindi sono esposizione e costruzione e sono strettamente legati sono termini che mettono in gioco in modo particolare le possibilità delle scritture di sé nel cinema documentario le forme della scrittura e qui cominciamo a vedere anche un secondo significato quindi la costruzione in qualche modo di una forma cinematografica devono partire da termini che in fondo indicano un'eccedenza l'eccedenza di sé nell'esposizione e l'eccedenza della scrittura stessa perché quando parliamo di scrittura nel cinema documentario o nel cinema reale parliamo di una pratica che investe tutte le fasi del film come dicevamo prima dalla prima idea fino al montaggio finale quindi perché eccedenza vengono in mente in questo senso le parole di Deleuze in Immagine Tempo quando in quelle pagine in cui parlando del cinema di Jean-Rouche o Perrault parlava di un cinema che coglie cito il divenire del personaggio reale quando si mette egli stesso a finzionare fictioné un personaggio che diventa un altro un altro se stesso quando si mette ad affabulare senza mai essere finto quindi come dire produce non tanto un doppio quanto un processo del divenire un altro nel momento in cui costruisce questa immagine l'eccedenza è quindi quella del divenire affabulatorio che caratterizza ogni personaggio di fronte a una macchina da presa cioè quando si filma un personaggio quel personaggio crea e mostra un divenire altro di fronte a quella macchina da presa cioè crea una proiezione di se stesso ancora di più ecco un primo livello di eccedenza questo avviene quando il personaggio è l'autore stesso Deleuze conclude il proprio percorso con quel celebre rovesciamento in questo senso che il cinema verità perché questo faceva riferimento Deleuze in quelle pagine dice Deleuze avrà distrutto ogni modello del vero ogni modello preesistente ogni immagine preesistente del vero per divenire creatore produttore di verità non sarà un cinema della verità ma la verità del cinema e qui quindi Deleuze compie uno scarto dalla dimensione comunque legata a quel momento storico a quella fase storica al cinema verità al cinema to cure e quindi mostra in qualche modo questa coappartenenza forte il documentario o il cinema reale è cinema e è cinema nel momento tra l'altro in cui mostra la potenza del cinema to cure l'eccedenza è dunque sia dal lato dell'esposizione sia da quello della costruzione nel senso che esposizione e costruzione sono quelle radicalità quelle eccedenze che necessitano di una scrittura una scrittura che non può essere data a priori ma deve essere in qualche modo creata inventata ogni volta e quindi realizza una molteplicità di forme possibili non esiste un modo una modalità attraverso cui questa dimensione di un io che diventa soggetto e oggetto della propria opera viene messo in forma assolutamente è proprio questa la cosa bella se quello di scrittura è un termine ampio che attraversa tutte le fasi della realizzazione di un film nelle pratiche autobiografiche o dell'autoritratto chiamiamole così per esigenza di sintesi allora la frammentazione di ogni narrazione che sponga la vita si apre a quello sgretolamento potenziale di cui parlava Schills è necessario di forme di scrittura tra virgolette in grado di mostrarne l'aleatorietà l'imprevedibilità forme molteplici che attraversano il cinema contemporaneo come forme cinematografiche riletture particolari delle forme cinematografiche stesse dei suoi elementi costitutivi della sua costitutiva impurità e tra l'altro impurità è qualcosa che è alla base anche dei discorsi che sono stati fatti già in questi primi due giorni dall'anteprima a ieri ne parlava Stefano Savona nella sua masterclass ne ha parlato anche Luca Venzi ieri quando a proposito dell'operazione che fa Godard parlava dell'invenzione di una scrittura nel momento in cui in qualche modo il montaggio interviene ora quali sono queste forme possibili sono tantissime uno si può divertire a fare degli elenchi io sono un maniaco degli elenchi quindi ne faccio uno piccolo per esempio la capacità come dire vampiresca del cinema di dirubare di sottrarre e sottraendo trasformare in qualcosa di puramente cinematografico ciò che appartiene apparentemente ad un altro ambito per esempio il vampirizzare le forme letterarie il diario il diario come forma non solo come forma letteraria ma come forma di esposizione di costruzione di un'immagine di sé che è considerata un genere letterario ma che pensiamolo per esempio nell'opera straordinaria Diary di David Perloff o David Perloff quest'opera che dura diversi anni e che diventa un apprendistato a fare cinema il fatto che il diario è un diario cinematografico significa che Perloff in tutti questi anni reimpara da regista professionista qual era a regista che crea o costruisce o cerca un nuovo cinema impara a filmare quindi si chiede ogni volta che cosa sto filmando perché sto filmando che cosa sto vedendo gli appunti tutte forme no? sgretolate frammentate gli appunti di Pasolini gli appunti per un estito africano gli appunti per un film sull'India il creare personaggi per esempio la scrittura per eteronimi Chris Marker che inventa Sandor Krasna in San Soleil o Chris il misterioso operatore di Level 5 la lettera l'epistolario Pencil Redemption di Miguel Gomes uno dei registi più straordinari insomma del cinema contemporaneo quattro lettere di quattro personaggi politici realmente esistiti Berlusconi Sarkozy la Merkel e queste lettere non esistono o meglio esistono perché quelle parole sono state pronunciate ma il montaggio che crea che crea Gomes nel film è un montaggio puramente puramente costruito dall'autore stesso ma l'epistolario cinematografico ha una tradizione molto profonda ci sono per esempio lettere corrispondenze epistolari cinematografici tra Wang Bing e Vittor Erise o tra Isaki Laquesta e Naomi Kawase per esempio sono state finanziate da un festival sono diventate dei film delle videolettere delle cine lettere che si mandavano uno con l'altro i vari autori ma non è solo la forma letteraria anche l'esposizione del corpo che è fondamentale l'esposizione del corpo che diventa diciamo una forma di scrittura Naomi Kawase Katatsumori il film in cui uno dei film in cui Kawase si confronta con la figura materna della nonna l'esposizione del corpo è per esempio in una mano che improvvisamente esce fuori dal campo della camera che la stessa Kawase sta tenendo su di sé e tocca il volto della nonna che un po' si ritrae dice cosa stai facendo ed è invece un momento straordinario appunto di rottura di convenzione cinematografiche penso a un film che ha girato molti molti festi un film del 2015 come The Black Flag di Majed Nehsi regista iraniano che che filma direttamente stando lì mentre c'è uno scontro a fuoco in Iraq tra diciamo l'esercito dello strato islamico e i combattenti che cercano in qualche modo di difendere il territorio dall'invasione dell'esercito dell'Isis e quella macchina da presa è lì ma quella macchina da presa è tenuta da lui quella macchina da presa è in qualche modo l'estensione del suo corpo e quelle immagini hanno senso perché c'è questa esposizione anche il reenactment può essere una forma di esposizione di sé corporea il regista palestinese come Raed Andoni che in Ghost Hunting fin del 2017 un film pluripremiato Crea che è stato prigioniero nelle prigioni israeliane insieme ad altri militanti palestinesi viene l'idea è quella di costruire una sorta di set cinematografico neutro la prigione dove lui e altri prigionieri sono stati fa una sorta di casting chiede a chi ha avuto esperienze appunto di prigionia nei territori occupati di Israele di partecipare al film lui stesso partecipa al film e rimettono in scena le situazioni che hanno vissuto il gioco è anche quello di rovesciare le posizioni cioè i prigionieri diventano carcerieri a volte o passano dal ruolo di prigioniero al ruolo di carcerieri quindi sono costretti a fare quello che hanno subito è un film straordinario un film che veramente rompe gli schemi nel vero senso della parola la dimensione della confessione la confessione è una forma radicale diceva Maria Zambrano un testo degli anni 40 straordinario appunto la confessione come genere letterario pensiamo a Harry Rang di King King Duke che è un film messo in scena c'è una troupe che lo filma mentre lui è lì in esilio c'è un decoupage ma questa messa in scena parte da un episodio questo ritirarsi dal mondo del cinema doveva aver quasi causato la morte di una sua attrice e quindi messo in crisi completamente il sistema del cinema e la dimensione del corpo si moltiplica cioè le identità si moltiplicano l'essere singolare plurale di cui parlava Nancy film siriano come Silver and Water del 2015 di Osama Mohamed Mohamed è un regista siriano costretto all'esilio finisco e e che vuole filmare quello che dal suo punto di vista quello che sta accadendo in Siria in questi in questi anni e e non può far altro che prendere immagini che vengono da Youtube quindi filmate da altri ma poi a un certo punto incontra una un filmato di una giovane docente una professoressa con cui entra in contatto epistolare e quindi crea dei personaggi lei diventa Silver and Water appunto acqua argentata lui diventa amico mio nel nel film e questo gli permette attraverso la costruzione di questo personaggio di essere lì pur non essendo lì e quindi di raccontare con sì le storie di mille e uno seriani come dice nel film ma in realtà di farlo attraverso un personaggio particolare e l'elenco potrebbe continuare a lungo però mi fermo prima di togliere troppo tempo grazie allora grazie a Daniele dottorini io sposterei le domande alla fine della sessione quindi procederei con l'ordine degli interventi soltanto un paio di questioni intanto no no puoi andare segnatele così mi sembrano due questioni che meritano una riflessione da un lato l'idea dell'autobiografico come forma di autenticazione di ciò che viene mostrato di ciò che viene raccontato e quindi in qualche modo rispondono un po' a un problema della verificazione delle immagini in altri dispositivi finzionali quindi la necessità di esporre qualcosa che dovrebbe essere più autentico di altri e poi la questione che in qualche modo l'autobiografismo inscrive immediatamente come dire legittima il tratto incompiuto delle forme secondo me e quindi dà un'ottima cornice che in qualche modo valida il fatto che la forma dovendosi misurare con questa sorta di vita in sé che l'esperienza privata raccoglie la forma è legittimata nella sua incompiutezza nella sua episodicità tra i tanti film che non è certo istanza documentaria secondo me tra i più importanti è caro diario di Moretti tutto sommato legittima anche il tratto episodico del film stesso essendo la forma diaristica in qualche modo si iscrive già in una struttura di film episodico va bene riprendiamo dopo queste questioni adesso è Cristina Formenti che è assegnista di ricerca e docente a contratto presso l'università degli studi di Milano dove conduce un progetto volto a indagare i rapporti tra realtà e finzione nel documentario contemporaneo con una particolare attenzione su come il reale possa essere rappresentato tramite l'animazione autrice del libro Mocumentary la fiction si maschera da documentario Mimesis curatrice di Mariangela Melato tra cinema teatro e televisione l'intervento ha questo titolo realismo versus sobrietà verso l'individuazione di una modalità di rappresentazione documentaria dell'animazione grazie allora oggigiorno sempre più spesso l'animazione viene impiegata per dar vita a quei prodotti noti come documentari animati di cui qui avete alcuni degli esempi più noti inoltre l'uso dell'animazione è molto comune anche all'interno di documentari altrimenti dal vero per rendere visibili vicende che non è stato possibile filmare come accade ad esempio in Bowling for Columbine in The Age of Stupid o in Waiting for Superman solo per fare alcuni degli esempi più più celebri a livello contenutistico queste animazioni sono certamente documentarie ma lo è anche la loro forma e più in generale esiste una modalità di rappresentazione documentaria per l'animazione per rispondere a queste domande gli esistenti studi in materia hanno guardato l'animazione sotto quella stessa lente del realismo che si usa in rapporto ai documentari in live action in generale pur essendo il realismo un concetto di per sé relativo e sebbene come evidenzia Jason Mittell sia a lungo stato e continua a essere oggetto di dibattito nei media studies per il suo essere un concetto definibile in modi diversi tra loro come spettatori tendiamo però a condividere l'idea che per poter considerare realistica come fattuale un'immagine filmica dobbiamo poter rintracciare una corrispondenza mimetica tra ciò che in essa è rappresentato e il suo referente reale Vivian Sobchak scrive infatti documentary is primarily indexical fiction is primarily iconic and symbolic il rapporto che l'animazione intrattiene con il realismo però è particolare per via delle peculiarità dell'animazione come medium in primo luogo infatti il parametro di riferimento per stabilire il grado di realismo di un film d'animazione è l'iperrealismo delle produzioni disneyane di cui qui avete alcuni esempi quindi si tratta di lavori che come puntualizza Stephen Rowley non solo ricorrono a uno stile di creazione del movimento come lo squash and stretch che enfatizza eccessivamente le movenze dei personaggi ma abbondano anche di atti magici animali parlanti oggetti inanimati che prendono vita e corpi dalle qualità irrealistiche si potrebbe obiettare che l'odierna tecnologia digitale permette di ottenere animazioni dotate di una verosimiglianza di molto superiore rispetto a quella esibita da film come appunto Dumbo o Bambi pertanto è forse possibile individuare un metro di paragone più adeguato dell'iperrealismo disneyano ma anche considerandolo nei termini di mimesi il realismo in animazione risulta essere sempre una forma di iperillusionismo ciò si deve al fatto che come ricorda Paul Ward even at its most mimetic animation just does not correspond to the real in the same way as live action e paradossalmente come evidenzia Annabelle Honestrow gli spettatori trovano meno problematiche le automobili parlanti del franchise Cars rispetto a figure umane estremamente fotorealistiche in CGI come possono essere quelle di Final Fantasy queste ultime infatti tendono a scatenare nel pubblico quella sensazione di disagio nota come Uncanny Valley effect secondariamente come ricorda sempre Ward per definizione un'animazione indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla è il frutto di un atto di creazione e non di registrazione come André Bazin mostra essere il caso per la pittura anche la genesi dell'animazione infatti è ipotecata da una soggettività inevitabile in altre parole l'ontologia dell'animazione è più prossima a quella dell'arte plastica che non a quella della fotografia pertanto visivamente un'opera di non fiction realizzata con questo mezzo di espressione potrà intrattenere con il reale un rapporto di natura iconica o simbolica ma non di tipo indessicale l'animazione visivamente manca infatti di quel legame indessicale con il reale che come delinea Anna Béron e Sorò in Animated Documentary tutt'oggi tendiamo a concepire come precondizione per poter considerare un prodotto audiovisivo un documentario e la studiosa scrive La presenza stessa dell'animazione costituisce quindi ai nostri occhi un ostacolo alla costruzione di un enunciatore reale operazione che Roger Rodin individua invece come chiave per l'instaurarsi in una lettura documentarizzante ne consegue che come spiega Ward even the most realistic animation will be watched as animation rather than as a recording of an actual profilmic world that is despite any truth claims made or real world situations and relationships shown the animatedness will still be an overriding feature of the film for the viewer as they watch the film Ward precisa poi animation's essential abstraction tends to make the viewer aware that she is watching something other than a mimetic recording of an external reality any realism obtained in this film is to do with generic narrative conventions and verisimiltude rather than any sense of the film actually resembling the world we live in in breve se come è stato fatto fino a oggi dagli studi in materia guardiamo questo medium nell'ottica del realismo l'unica conclusione a cui si può pervenire è che a livello visivo l'animazione abbia una sola modalità di rappresentazione la quale è intrinsecamente finzionale e che di conseguenza la distinzione tra animazione di finzione e documentaria può essere fatta solo sulla base del contenuto di questi prodotti se però prendiamo in esame la totalità delle animazioni a carattere fattuale andando oltre l'ottica del realismo noteremo per quanto riguarda il vocabolario grafico e le strategie di rappresentazione utilizzate due macro tendenze opposte rintracciabili lungo tutto l'arco della storia dell'animazione da un lato possiamo infatti isolare animazioni dove per illustrare frammenti del reale si usa tutta l'anarchia grafica che questo mezzo d'espressione consente e dall'altro animazioni in cui il reale è delineato impiegando un linguaggio grafico asciutto schematico e diagrammatico che attinge il proprio vocabolario grafico per lo più da linguaggi visivi di stampo scientifico quali la cartografia l'illustrazione medica il disegno tecnico e così via esempi di questi due approcci nell'animale reale sono Blood Transfusion di Hans Neter e Defense Against Invasion di Jack King entrambi questi cortometraggi dei primi anni 40 sono parzialmente animati hanno finalità didattiche e trattano aspetti del reale che ricadono nel dominio della medicina il primo illustra storia e procedimento delle trasfusioni di sangue il secondo il modo in cui operano i vaccini i modi di rappresentazione di nesti impiegati però non potrebbero essere più disparati come ha sottolineato Kaufman Defense Against Invasion che è stato prodotto dai Walt Disney Studios abbonda di striking and imaginative visuals e fa ampio ricorso a quegli stessi dispositivi narrativi come antropomorfismo sineddoche drammatizzazioni e metafora visiva usati dallo studio di Bourbanks per dar vita ai propri film di finzione presenta quindi i dispositivi che favoriscono quella generalizzazione che Roger Rodin delinea essere alla base della lettura favorizzante ovvero di una modalità di lettura intermedia tra quella documentarizzante e quella finzionalizzante che prevede la costruzione di un enunciatore reale che da un lato pone lo spettatore di fronte a un discorso ovvero gli impartisce un insegnamento e lo induce a costruire un nuovo enunciatore reale ma dall'altro gli consente di sentirsi toccato dalla storia raccontata un po' come accade ad esempio fruendo le favole di Esopo e in effetti come lo stesso Disney ha delineato nel 1955 sulle pagine dell'Elf Education Journal Defense Against Invasion è stato realizzato proprio in modo che potesse al tempo stesso informare e intrattenere lo spettatore al contrario in Blood Transfusion che è stato prodotto dalla Polarota Productions è impiegato un linguaggio diagrammatico noto come Isotype originariamente sviluppato dal sociologo Otto Neurath e da sua moglie Marie per tradurre informazioni quantitative e statistiche in pittogrammi universalmente comprensibili questo è l'esempio di Defense Against Invasion e questo da Blood Transfusion vedete come è diverso il tipo di linguaggio grafico come gli stessi coniugi Neurath hanno evidenziato nel creare questo linguaggio grafico hanno voluto sviluppare un sistema grafico che convogli dati reali senza suscitare reazioni di tipo emozionale nello spettatore diversamente da quella di Defense Against Invasion le animazioni di Blood Transfusion comunicano quindi dati e fatti in modo chiaro ed essenziale attraverso un linguaggio visivo sviluppato secondo una metodologia scientifica un esempio concreto delle differenze esistenti tra questi due film dal punto di vista di modo di rappresentazione e linguaggio grafico sia nel modo in cui vengono rappresentate le cellule del sangue l'animazione non funziona molto però se noi torniamo indietro queste sono le cellule del sangue in Defense Against Invasion e queste in Blood Transfusion altri due film esemplificativi dei due diversi approcci esistenti nell'animale irreale sono The Sinking of the Lusitania di Windsor McKay e The Battle of the North Sea oltre a essere entrambi del 1918 questi due corti sono accomunati dal fatto di rappresentare un episodio della prima guerra mondiale rispettivamente l'affondamento del transatante con l'usitania e la battaglia dello Jutland anche in questo caso però a livello di modo di rappresentazione e vocabolario grafico impiegati i due film differiscono significativamente sebbene in modo meno spiccato rispetto a Defense Against Invasion nel corto di McKay non solo si impiegano dispositivi come metafora visiva o sineddoche ma come evidenzia John Kenmaker i fatti delineati vengono anche drammatizzati mediante l'impiego di una varietà di angolazioni drammatiche e di soggettive così da sollecitare una risposta emotiva nello spettatore in The Battle of the North Sea invece si utilizzano solo inquadrature aeree per creare una distanza tra lo spettatore e gli eventi raccontati inoltre l'intento è puramente informativo come chiarisce il cartello iniziale e il linguaggio visivo è asciutto schematico e sfrutta un simbolismo che riposa su basi più o meno scientifiche è infatti scevolo di ogni forma di drammatizzazione alterna di dascalie coincise che delineano gli avvenimenti reali relativi alla battaglia dello Jutland a mappe animate che mostrano i movimenti delle imbarcazioni coinvolte nello scontro lo sfondo realizzato attingendo al linguaggio grafico della cartografia e le varie navi sono rappresentate attraverso ritagli di carta dalla forma oblunga più o meno grandi in relazione all'effettiva dimensione delle imbarcazioni si mescolano così segni grafici universalmente condivisi a simboli non preesistenti di cui però è fornita una precisa leggenda nel secondo cartello e che sembrano quindi essere stati sviluppati seguendo un metodo in un certo senso scientifico questi due diversi approcci nell'animale reale possono anche coesistere in uno stesso film come accade in Waiting for Superman in questo documentario altrimenti dal vero sui limiti del sistema educativo statunitense troviamo animazioni come quella che vi mostrerò adesso in cui si spiega in cosa consiste la prassi denominata danza dei limoni che le scuole mettono in atto annualmente per scambiarsi gli insegnanti meno dotati dovrebbe esserci anche l'audio in Milwaukee they call it the dance of the lemons here's how it works principals have their lemons these are teachers who are chronically bad they know it the other teachers know it the school knows it but the union contract says you can't fire them so at the end of the year all the principals get together and they do the lemon dance Fred gives Jack his lemons Jack gives Sally his lemons and Sally gives Greg her lemons the lemon dance qui eventi fattuali sono quindi drammatizzati sfruttando il linguaggio più finzionale dell'animazione nello stesso film però ci sono anche animazioni in cui si usa un linguaggio diagrammatico e si indicano addirittura le fonti dei dati messi in immagine adesso vi mostro una clip anche di questo e se guardate sul fondo vedrete che c'è proprio una sorta di nota che indica da dove sono presi i dati quindi alla luce di questi esempi viene da chiedersi e se l'animazione avesse sempre avuto un proprio modo di rappresentazione di non fiction ma non si sia mai arrivati a individuarlo semplicemente perché quella del realismo non è l'ottica corretta per farlo a indicarci inconsapevolmente dove guardare per identificare un parametro più adeguato è Walt Disney quando in un saggio del 1955 sul documentario animato afferma che attraverso l'animazione il reale può essere illustrato sia in un modo che intrattenga lo spettatore sia in modo sobrio la sobrietà è individuata da Bill Nichols come una caratteristica del documentario dal vero riferendosi al documentario in live action Nichols nel 1991 Antunno scrive a documentario film as a kinship with those other non-fictional systems that together make up what we call the discourse of sobriety science, economics politics, foreign policy education, religion welfare these systems assume they have instrumental power they can and should alter the world itself they can affect action and entail consequences their discourse as an era of sobriety since it is seldom receptive to make believe characters events or entire worlds e nel 1993 in Bird Boundaries Nichols specifica che uno degli aspetti che permette di distinguere le modalità di rappresentazione del documentario da quelle della fiction è proprio che le prime aderiscono ai principi della retorica che governano i discorsi di sobriety ed egli aggiunge such discursi attempt to represent the state of affairs in the historical or natural world itself rather than offer openly imaginative representation of it their sobriety allows such discourses to count narrative technique among their rhetorical strategies but with little stress on complex narrative form or on the construction of imaginary worlds e se guardiamo in quest'ottica i vari film presi in esame noteremo che ciò che distingue le animazioni di Blood Transfusion e The Battle of the North Sea da quelle di Defense Against Invasion e The Sinking of the Lusitania così come le sequenze animate schematiche di Waiting for Superman da quelle più immaginifiche è che mentre le prime intrattengono un legame con i discourses of sobriety solo a livello contenutistico le seconde lo intrattengono anche sul piano estetico formale se adottiamo l'ottica della sobrietà possiamo quindi concludere che anche l'animazione ha un suo modo di rappresentazione di non fiction quello privo di fronzoli e connesso a qualche livello alla scienza rintracciabile in film come appunto Blood Transfusion e The Battle of the North Sea si potrebbe obiettare che l'identificazione della forma di non fiction dell'animazione in un modo di rappresentazione schematico e la sua contrapposizione con una resa attraente dall'impiego di una serie di strategie finzionali rappresenti un ritorno al pregiudizio di antica data per cui bellezza e verità siano irreconciliabili cosa che come Michael Raynov ha evidenziato in relazione alla non fiction in live action non è necessariamente vera egli scrive non sto però suggerendo che film come The Thinking of the Lusitania e Defense Against Invasion siano meno veritieri dal punto di vista contenutistico perché fanno uso del lato più anarchico dell'animazione bensì che in essi il reale è delineato attraverso un modo di rappresentazione finzionale analogamente a quanto accade ad esempio nei docudrama secondariamente non a caso a un decennio di distanza l'uno dall'altro Paul Wells e Craig Hyde hanno parlato di quel linguaggio visivo sobrio proprio di film come Blood Transfusion e The Battle of the North Sea nei termini di marca di veredizione consostanziando inconsapevolmente l'idea che tale linguaggio visivo sia identificabile come la forma di non fiction di questo medium nel suo saggio The Beautiful and the True Village Wells descrive l'uso di questa modalità pitografica schematica e diagrammatica come una convenzione che al tempo stesso favorisce la chiarezza espositiva e accresce cito the supposed authority invested in the data analogamente nel saggio Primetime Digital Documentary Animation Hyde si sofferma su Line of Fire una serie tv dove le battaglie di cui ogni episodio dà conto sono visualizzate avvalendosi di convenzioni proprie della cartografia e della vessillologia nonché di frecce per istruggerire i movimenti delle formazioni coinvolte e riferendosi alla serie Hyde afferma the digital battle map is typically used to reinforce the certainty of the historical narrative that such documentaries construct come già Wells anche lui quindi parla di questo tipo di animazione nei termini di marca veredittiva avvalando così l'idea che sia il modo di rappresentazione non fiction di tale mezzo d'espressione in conclusione emerge come analogamente a quanto accade per la produzione in live action anche per quella in animazione possono essere individuate una modalità di rappresentazione del reale finzionale e una di non fiction la prima è caratterizzata dal ricorso a tutto lo spettro dei trucchi di cui l'animazione dispone e adattando la teorizzazione di Roger Rodin possiamo definirla animazione favolizzante la seconda è contraddistinta da un linguaggio grafico asciutto sobrio e radicato nella scienza possiamo considerarla a tutti gli effetti la modalità di rappresentazione documentaria dell'animazione e riprendendo Nichols possiamo denominarla animazione sobria queste due modalità di rappresentazione sono rintracciabili sia in prodotti audiovisivi non fiction interamente in animazione sia in documentari altrimenti in live action possono coesistere in uno stesso film come dimostra il caso di Waiting for Superman e non sono una l'evoluzione dell'altra bensì sono sempre state presenti nella produzione in animazione e lo sono tutt'oggi solo per poterla individuare è necessario smettere di guardare a questo medium nell'ottica del realismo e adottare invece la prospettiva della sobrietà grazie questioni e interventi anche in questo caso saranno posticipati soltanto una questione Savona Stefano Savona nella giornata preliminare in qualche modo mostrando il lavoro grafico che è stato centrale nel suo film La strada di Samuni in qualche modo ha mostrato come anche un lavoro grafico possa avere un effetto di veridizione di ciò che lo spettatore vede che prescinde appunto dalla base di indice quindi probabilmente la domanda sarà quali dispositivi formali espressivi rendono veritiera un'immagine anche quando questa in certo senso non ha una base di indice come quella disegnata come quella animata allora procediamo e adesso Lorenzo Donghi che insegna il contratto presso l'Università di Pavia e presso lo Iurme di Milano si occupa prevalentemente di studi cinematografici e visuali ed è membro del Self Media Lab centro studio attivo presso l'Università di Pavia è autore della monografia Scenari della guerra al terrore e con Deborah Toschi ha curato il volume al presente segni immagini rappresentazioni della memoria il l'intervento di Lorenzo Donghi è ripetita a Juvent il reenactment come forma cinematografica del reale grazie grazie professore se mi sentite sì e grazie ovviamente anche a chi si è speso per l'organizzazione di questo convegno e per chi ha accettato la mia proposta tra le forme cinematografiche del reale emerse nel quadro del cinema contemporaneo quella del reenactment merita mi pare quanto meno una menzione ben inteso non certo perché è inedita ma in quanto di reenactment si è da tempo tornati a parlare con una certa ricchezza di interventi e con un dialogo piuttosto fitto per quanto non sempre strutturato un dialogo sviluppato a cavallo di differenti discipline e promosso da un etereogeneo insieme di voci non voglio certo in questa sede mettere ordine tra esse mi limito piuttosto a segnalare alcuni dei principali campi del sapere a cui possiamo ricondurle ossia il dibattito internazionale internazionale sul cinema documentario che ha fatto registrare un costante crescendo negli ultimi due decenni tra gli altri Bill Nichols già citato Brian Winston Stella Abruzzi Vivian Somchak e altri la tradizione del cinema antropologico inoltre in particolare del cinema diretto e del cinema verità da cui Renactment muta a sovelta alcuni espedienti per esempio l'utilizzo di interviste oppure campi di ricerca accademica di recente affermazione quali performance studies e i memory studies penso per esempio all'idea di performance come strumento di riattivazione della memoria diverse pratiche psicodrammatiche ossia pratiche creativo performative concepite fondamentalmente in funzione terapeutica e l'ambito delle esperienze artistiche commemorative cosiddette site specific che obbligano quindi il soggetto interessato a fare ritorno sul luogo dell'esperienza originaria intese evidentemente come spazio portatore di memoria tuttavia questa nuova ed eterogene attenzione rivolta al Renactment ha finito per attribuire al fenomeno anche un limite ossia quello di una definizione univoca difficilmente formulabile rispetto a una tale quantità di spunti e di parti chiamate in causa un utile passo preliminare allora un utile manovra di avvicinamento può risultare quella di iniziare a capire cosa non è Renactment o quantomeno cosa non intendo io oggi considerare Renactment in questo senso non è Renactment per esempio la living history cioè l'usanza di riportare in vita usi e costumi di un certo periodo o di un determinato evento attraverso ricostruzioni collettive che sebbene possono essere assolutamente puntuali e rigorose sono spesso volte all'intrattenimento turistico o al più didattico inoltre non sono Renactment prodotti realizzati con la logica della docufiction soprattutto nella sua piegatura televisiva cioè prodotti che drammatizzano fatti realmente accaduti inscenandoli per mezzo di attori molto spesso che recitano sulla base di verbali interrogatori intercettazioni telefoniche testimonianze giuridiche e quant'altro e ancora ovviamente non è Renactment il film che rimette a scena uno spaccato temporale del passato o che riporta sullo schermo le vicende di una vita vissuta film biografico per intenderci quale definizione possibile allora per una pratica flessibile caratterizzata da una spiccata versatilità provo a proporvene una parziale provvisoria e ovviamente non certo esaustiva per Renactment intendo dunque riferirmi in questa sede a una pratica cinematografica fondata su un particolare tipo di interpretazione che consiste nell'agire la memoria di un evento passato tramite la diretta implicazione di chi ne è stato protagonista sancendo così una continuità identitaria tra testimone e performer cioè tra colui che vive l'esperienza primigenia e colui che torna a performarla subito alcune precisazioni sono infatti consapevole che tale ipotesi definitoria finisca per profilare il Renactment come un fenomeno quantitativamente minoritario e probabilmente anche teoricamente limitativo in quest'ottica infatti non tutto è potenzialmente oggetto di Renactment in quanto secondo questa declinazione viene meno il Renactment se vengono meno i testimoni che possono performare un'esperienza passata tuttavia è una definizione che mi pare possa funzionare per alcune ragioni sottolinea il carattere non autotelico ma intersoggettivo del Renactment operazione che in questo senso non pone nelle condizioni di compiere un percorso solo il soggetto coinvolto ma che si offre soprattutto come un'apertura rivolta allo spettatore che nell'osservare proprio quel corpo che reagisce alla propria esperienza intende appunto quel ripetere quel tornare a dire a fare come una vera e propria istanza testimoniale e quindi come un gesto inderogabilmente rivolto a qualcuno un gesto in cerca di destinatario fondamentalmente inoltre tale definizione mi sembra evidenzi piuttosto bene la duplicità semantica dell'interpretazione di cui Renactment si fa promotore vale a dire interpretazione certo come performance passatemi il termine attoriale ma anche al contempo come procedura epistemologica motore di un gesto di rammemorazione che vuole essere critico una rammemorazione che pertanto non vuole e non deve essere mimetica bensì rielaborativa infine la definizione proposta mi pare si sintonizzi con alcune questioni ricorrenti che pongono oggi le forme del realismo cinematografico contemporaneo a partire proprio da quello che Daniele Dottorini chiama il cinema del reale non solo lui ovviamente ne scelgo tre di queste questioni cercando poi di presentare alcuni casi che i mori diversi possano in qualche modo illustrarli prima questione il reenactment ponendo al centro il soggetto dell'esperienza cioè l'attore non professionista colui che è chiamato alla performance in quanto testimone di letto dell'evento originario non mi pare interessato tanto a rappresentare il passato così come è stato davvero come direbbero gli storicisti tanto in visia a Benjamin quanto a discuterne le condizioni di convocabilità tramite l'impiego di un preciso dispositivo vale a dire il corpo che reagisce alla performance memoriale performance che può essere di due tipi fondamentalmente orale se si dispiega attraverso il racconto o gestuale legata appunto alla corporeità versante su cui evidentemente esisterò di più oggi il corpo quindi presenza che da una parte è posta in garanzia testimoniale poiché come si diceva poc'anzi certifica una continuità identitaria tra testimone e performer ma che dall'altra assorbe la funzione di un vero e proprio archivio della memoria dotato di un proprio sapere che rimane permettetemi di dire inciso nella pelle o quantomeno custodito nei movimenti nei gesti e ciò chiama in casa la seconda questione ossia la complementarietà tra processo e prodotto o tra prodotto e processo alla luce proprio della continuità identitaria è infatti spontaneo concludere che ricordi emozione o più in generale la soggettività stessa del performer influenzino profondamente il processo di realizzazione del reenactment tanto quanto del resto essi sono a loro volta influenzati proprio dal farsi del film il reenactment infatti non è solo la rappresentazione per immagini cui assistiamo guardando su uno schermo ma è il risultato di una complementarietà tra un oggetto concluso il prodotto e il suo sviluppo aperto cioè il suo processo di realizzazione suscettibile di modifiche durante il work in progress così come di ripensamenti rispetto al progetto di partenza una caratteristica che permette così di estendere al reenactment quel corcetto di performance come appunto opera aperta che Stella Abruzzi avanza sebbene limitatamente nell'ambito del documentario e arrivo quindi alla terza questione già accennata dal primo intervento di Daniele Dottorini che ha a che fare con la contaminazione tra diverse forme discorsive dell'immagine fiction e documentario per esempio e indirizzo ovviamente che mi sembra parecchio battuto all'interno delle strade del cinema contemporaneo mi pare infatti sia proprio questa apertura del reenactment a far sì che la rievocazione di cui essa si fa carico permetta alla ripetizione di essere davvero di essere autenticamente una nuova interpretazione una seconda volta quindi che diventa anche in un certo senso una seconda chance un esercizio allora questo del reenactment che in quanto non mimetico ma rielaborativo dimostra spendibilità sia nel cinema documentario che in quello finzionale anzi ancora di più in quegli oggetti diciamo così dello statuto ibrido proprio perché non considera affatto il ricorso alla finzione come un limite bensì come uno degli strumenti a disposizione dell'immaginazione per mettersi in moto provo dunque a fare qualche esempio concreto come primo esempio vi propongo un caso capace e mi pare di riassumere perfettamente i punti fin qui accennati si tratta di Little Dieter Needs to Fly fin dal 1997 di Werner Herzog regista che del resto mi sembra abbastanza spontaneo convocare in un convegno che si interroga sulle forme cinematografiche del reale il film che non a caso è un documentario per meri motivi economici e che Herzog considera il suo finzione più riuscito racconta la storia di Dieter Dangler aviatore statunitense di origine tedesche che durante la guerra del Vietnam viene catturato dai nemici e tenuto prigioniero in Laos prima della roccambolesca fuga che gli permette di guadagnare la salvezza ecco dunque che Dangler contattato poi da Herzog accetta di fare ritorno insieme a regista sui luoghi della sua prigioniera laddove in abiti civili camicia e pantaloni casual diciamo l'uomo reinterpreta con l'ausilio di comparsi locali alcuni momenti cruciali della sua cattività la paura al momento della cattura la terribile uccisione dei compagni la fuga disperata il salvataggio ad opera di militari americani nella giungla laoita un'azione performativa quella operata da Dangler che dunque risulta evidentemente una riattualizzazione della sua esperienza bellica ben diversa rispetto a quella che per esempio a partire dagli stessi fatti coinvolge nel 2006 Christian Bale protagonista dell'alba della libertà film di finzione girato sempre da Herzog sempre sulla storia di Dieter Dangler ma questa volta evidentemente con maggiori possibilità economiche e non potrebbe essere altrimenti da una parte assistiamo al reenactment di un testimone diretto che si fa performer dall'altra l'interpretazione non solo di un attore professionista per quanto come sappiamo molto mutevole bensì e primariamente la performance di un corpo altrui tuttavia un anno prima del film di Herzog un altro illuminante impiego del reenactment viene sviluppato all'interno di un orizzonte cinematografico del tutto differente quello cioè del nuovo cosiddetto del nuovo cinema iraniano movimento che grazie a un modus operandi che si affida puntualmente alla compenetrazione tra realtà e finzione elabora brillanti strategie per evitare di finire imbrigliato nelle maglie della censura il caso più celebre è senza alto close up di Albas Chiarstami tuttavia il film su cui vorrei soffermarmi brevemente è un altro si tratta di pane e fiore dell'altro maggiore esponente del movimento Mosen-Makbalbaf girato nel 1996 riassumo brevemente la trama per chi non dovesse conoscerlo un regista il vero Makbalbaf che interpreta se stesso mentre sta selezionando il cast del suo ultimo film riconosce in un aspirante attore la guarda dello Shah che ha realmente accoltellato vent'anni prima durante alcune proteste una volta riconosciuto decide non tanto di dargli una parte del film bensì di narrare nuovamente l'episodio inscenandolo però con l'ausilio di due giovani attori uno che recita la sua parte l'altro che recita la parte della guardia un vero cortocircuito perché l'uomo riconosciuto non è la guardia è solo un attore ma è vero l'episodio dell'accoltellamento che ha coinvolto Mike Balbuff da giovane ecco quindi che il film si configura come un laboratorio in cui prende vita un processo di reenactment che si sviluppa per delega per interposta persona ma in cui e questo mi sembra un fattore decisivo il testimone è comunque implicato un reenactment che forse paradossalmente rimarca come solo ricorrendo al dispositivo del mascheramento si possa in qualche modo rivelare il vero ma reenactment dimostra difungere da prezioso strumento di indagine anche quando non coinvolge solo l'esperienza del singolo bensì quella di una pluralità di persone meglio di una comunità di persone come nel caso di una collettività che ha dovuto affrontare un trauma storico in questo caso reenactment dimostra infatti che la memoria non ha fatto un prodotto del passato da subire quanto un processo da attualizzare al presente una risorsa da sfruttare per intessere un'autentica relazione intersoggettiva per cementare una memoria condivisa del resto occorre avviare un'elaborazione collettiva e ciò significa invitare alla performance proprio come è stato detto prima tanti sopravvissuti di una tragedia quanto i loro aguzzini coinvolgendoli in un'operazione che passa non facoltativamente bensì necessariamente dal dialogo tra parti diverse tra parti avverse due casi piuttosto noti ma dal valore mi sembra piuttosto preminente il primo è costituito dal documentario del 2003 S21 la macchina di morte dei Khmer rossi che il regista cambogiano Ritipan realizza nel tentativo di colmare l'assenza di un tessuto connettivo a partire da cui processare il trauma collettivo del regime di Pol Pot un'assenza che il popolo cambogiano vive ancora oggi come un affronto alla memoria di intere generazioni per tentare di colmare o almeno per tentare di farlo almeno in parte questa mancanza il regista che è stato rinchiuso quattro anni in un campo di rieducazione durante la dittatura dei Khmer rossi decide di partecipare a un progetto collettivo finalizzato alla creazione di archivi per la memoria popolare il film è quindi l'esito di questo progetto e si delinea come un lavoro di gruppo tra persone che hanno vissuto da parti opposte la stessa storia a vite meccarnefici viene infatti chiesto di tornare nella città di Phnom Penh presso i locali del terribile ufficio di sicurezza 21 una scuola superiore diventata all'epoca un teatro degli orrori e oggi trasformata nel museo del genoincidio con lo scopo di reinterpretare insieme i loro vissuti con enorme fatica ovviamente e senza alcuna certezza di raggiungere un esito positivo il secondo caso ovviamente è il documentario del 2012 The Act of Killing del regista statunitense Joshua Oppenheimer il film con il successivo Veluco Silence racconta la vera e propria purga anticomunista organizzata in Indonesia tra il 1965 e il 1966 assumendo prima il punto di vista dei carnefici e poi delle vittime nel film successivo ed è proprio il primo episodio a risultare profondamente disturbante i responsabili dei crimini impuniti non si limitano a fornire la loro testimonianza ma rimettono in scena la loro crudeltà come se fossero protagonisti di un film allestendo il set e recitando in accordo i loro generi cinematografici preferiti come per esempio il gangster movie tuttavia e mi avvio a concludere il reenactment inteso nell'accezione proposta mi pare possa essere protagonista anche di un ulteriore rilancio che lo proietta sul piano dell'intermedialità laddove quindi coinvolgendolo in un confronto attivo i diversi formati tecnici dell'immagine contemporanea così come i diversi dispositivi visuali presenti nell'immaginario tecnologico non solo si finisce per corroborare la prestazione referenziale dell'immagine stessa ma si coglie anche la trasformazione profonda che interessa la nostra memoria oggetto di un'esposizione sempre più diretta e sempre più costante al sistema dei media una memoria che oggi non può ignorare l'azione decisiva svolta dall'ambito mediale sulla sua stessa formazione lo vedremo bene nell'ultimo esempio ma in che senso reenactment intermediale nel senso proposto per esempio da Walzer con Bashir in cui il regista israeliano a riforma soldato in Limano durante la guerra civile per rigenerare una memoria compromessa la conosa si affida come ci ha ricordato prima Cristina Formenta al linguaggio dell'animazione scelta forse poco ortodossa ma dopo l'intervento di Cristina direi no anzi ma impiegata proprio per poter in ultima istanza riagganciare il ricordo per mezzo di un'immagine di differente statuto la vedete sulla destra un'immagine della realtà un'immagine indessicale vale a dire un'immagine dei reali massacri in cui è stato testimone Folman all'uscita dei campi profughi di Sabra e Schatila una ripresa che è montata nel film come controcampo della soggettiva del protagonista che è lo stesso Folman o meglio la sua diciamo identità animata permette di portare a compimento uno sforzo di accreditamento della memoria un reenactment visionario concluso proprio da una manovra di discontinuità mediale oppure un altro caso esemplare è ovviamente l'ultimo film di Clint Eastwood Ore 15 e 17 attacco al treno film che immagino sarà già stato citato nel corso di questo convegno e quindi di cui mi limito a fare solo qualche cenno rimaccando questo sì come la particolarità del film sia appunto l'impiego per il ruolo dei tre protagonisti proprio dei tre soldati realmente coinvolti negli accadimenti narrati insomma lo sventato attentato sul treno tre soggetti che dunque si trovano a reagire all'esperienza che li ha coinvolti originariamente il risultato è sorprendente anzitutto quando nel finale il montaggio fa esplodere gli effetti di questa coincidenza a sinistra vediamo i tre personaggi di una narrazione finzionale che piega alle proprie esigenze cinematografiche il racconto dei fatti a destra ci sono gli stessi corpi ma questa volta sono di tre persone non di tre personaggi che in una ripresa televisiva che Instood monta alla fine del film ricevono la legge da parte dell'allora presidente della Repubblica francese François Hollande ma e con questo mi avvio davvero a concludere il caso che mi sembra più significativo non è strettamente filmico pur risultando credo a buon diritto cinematografico si tratta dell'installazione video a due canali The Third Memory realizzata nel 2000 dall'artista francese Pierre Huig è qui riproposta in uno dei suoi molteplici allestimenti quello di Chicago installazione che come vedete consta di due schermi sul primo a sinistra potete riconoscere l'attore Al Pacino sul set del celebre film Quel pomeriggio di un giorno da cane sì nel 1975 film basato come sapete su una rapina in banca avvenuta a Brooklyn nell'agosto del 72 e incentrato proprio su uno dei due rapinatori Sonny Wojtsovich ossia il personaggio interpretato da Al Pacino sul secondo schermo invece c'è il vero Sonny Wojtsovich che su richiesta dell'artista rimette in scena la rapina secondo la propria versione compatibilmente quindi con ciò che di essere a memora ebbene mettendo in dialogo spezzone del film di Lumet con footage televisivo registrato all'epoca e con la rievocazione in cui è coinvolto Wojtsovich e quindi delegando in un certo senso allo spettatore il compito di montare nella sua mente le diverse colonne visive dell'opera l'artista francese usa Renekman per sottolineare un dato rilevante infatti John più che ricordare la realtà per come è accaduta dimostra di rimettere in scena passaggi del film che evidentemente si sono sovrascritti ai suoi ricordi alla sua esperienza diretta il Renekman quindi lo accennavo poco fa anche come un'indagine sulla memoria che si premuri anzitutto di restituire il lavoro dei vari livelli che la compongono una memoria personale primo livello la rapina del 72 risulta infatti così compromessa dalla contaminazione con la memoria mediale secondo livello il film di Al Pacino il film con Al Pacino da costruire una terza memoria che è ebrida delle altre due e che evidentemente è la memoria a cui allude il titolo dell'opera grazie allora grazie a Lorenzo Dunghi anche nel suo caso sposteremo alla fine nel poco tempo comunque che ci resterà delle questioni soltanto una cosa diciamo mi piace sottolineare in questo nell'intervento tra le altre cose interessanti che sono state dette questo legame tra processo e prodotto che in un certo senso è anche l'idea che nell'opera intesa come prodotto ci sia sempre un'istanza performativa che viene rialimentata e che impedisce a quest'opera a questo prodotto di chiudersi completamente ecco questo secondo me è un punto che poi merita una riflessione ulteriore l'ultimo intervento di questa sessione è di Laura Busetta che ha acquisito il dottorato in tecnologie digitali e metodologie per la ricerca sullo spettacolo presso il dipartimento di storia dell'arte dello spettacolo della sapienza di Roma tra le sue pubblicazioni la scrittura dell'impersonale in Imago e poi Autoportrait de De Sambre in Fata Morgana Ognuno ogni uomo che soffre carne macellata e allora il suo intervento a questo titolo Sguardi in conflitto scrittura femminile e memoria collettiva nel documentario italiano contemporaneo grazie grazie al professore De Gaetano grazie ad Alessia Cervini a chi ha reso possibile l'organizzazione di queste giornate dunque allora anch'io mi soffermerò sulla scrittura intima quindi alcune delle questioni che sono emerse nell'intervento di Daniel Dottorini ritorneranno ma magari avremo anche modo poi di discuterle insieme la relazione fra documentario e scrittura intima ha trovato ampio spazio all'interno del dibattito teorico sul cinema nel suo testo sul documentario autobiografico americano Jim Lane scrive che soprattutto alla fine degli anni 60 che si osserva una fascinazione nei confronti del tema della scrittura soggettiva da parte di quei registi che iniziano a riferire eventi della propria vita personale come veicolo di un'esperienza culturale la svolta autobiografica che ha interessato il documentario con il suo spostamento di attenzione nei confronti del soggetto del film stesso più che di una storia da raccontare è stata peraltro evidenziata in numerosi studi e ha dato luogo a formulazioni teoriche di carattere eterogeneo proposte da studiosi come i già citati Michael Renov Catherine Russell Bill Nichols o Jim Lane Renov parla di una prospettiva maggiormente personale e di una virata verso una politica dell'identità che ha contraddistinto il cinema documentario a partire dagli anni 70 in cui alla posizione documentativa di tipo informativo è subentrata una prospettiva diversa nella quale cito la posizione documentativa che era stata precedentemente valorizzata come informativa oggettiva veniva sostituita da una prospettiva più personale in cui la posizione del soggetto e il suo investimento soggettivo venivano messi in primo piano cos'è successo negli anni tra il 70 e il 1990 che ha contribuito a questa pervasività della soggettività nel documentario il clima culturale di questo periodo almeno nella cultura occidentale è stato caratterizzato da uno spostamento dalla politica dei movimenti sociali alla politica dell'identità tale dinamica andrebbe se non altro messa in relazione anche con un fenomeno più ampio di ritorno alla soggettività che ingloba oggi l'intero sistema dei media e investe anche il cinema lo scenario contemporaneo pare infatti privilegiare pratiche di scrittura di ordine collettivo dando spazio a una concezione dell'identità più fluida in cui autobiografie e soggettività sono sollecitate e ridefinite dalla trasformazione mediale mentre l'interazione con tecnologie piattaforme e dispositivi ridefinisce profondamente le retoriche di soggettivazione è sulla base di tali premesse che a mio avviso si può analizzare l'oscillazione fra singolarità memoriale e riflessione collettiva in atto in alcuni documentari italiani recenti il cinema del reale ha costruito in Italia uno spazio privilegiato di afformazione di nuove forme della soggettività percorrendo spesso pratiche a basso budget che passano per la manipolazione di archivi audiovisivi di materiali amatoriali della valorizzazione del fan footage penso in particolare ad alcuni film realizzati nei primi anni 2000 che si concentrano soprattutto sulla rappresentazione del femminile nella storia nazionale Bellissime 1 e Bellissime 2 di Giovanna Gagliardo Vogliamo anche le rose di Elena Malazzi Il corpo delle donne di Zanardo Chindemi Cantù e Ragazze alla vita trema di Paola San Giovanni questi hanno in comune non solo la scelta di uno sguardo a posteriori che indaghi su specifici periodi storici temi figure rappresentative della nostra storia nazionale ma anche il linguaggio utilizzato segnatamente quello del rimontaggio di materiali di archivio Se l'utilizzo del fan footage diventa centrale come linguaggio e strategia la narrazione esibisce deliberatamente un punto di vista personale attraverso espedienti particolari come l'utilizzo della voiceover l'inserimento di interviste diari o testimonianze racconti di vita qualunque piuttosto che racconti ufficiali l'archivio di immagini viene sollecitato e riarticolato in una logica profondamente soggettiva che tende a esibire le marche enunciative piuttosto che occultarle Possiamo parlare dunque di un modello soggettivo o autobiografico di cui sembra nutrirsi a larga parte del cinema del reale recente che coinvolge anche il nostro paese? Credo di sì soprattutto se lo intendiamo non naturalmente come un genere cinematografico quanto come una pratica che in un più generale movimento di soggettivazione che contraddistingue lo scenario contemporaneo come abbiamo poc'anzi premesso si impone con particolare rilevanza Mi sembra infatti che in tale sistema di soggettivazione più ampia come la definisce ad esempio Bertozzi nel suo ultimo testo sul documentario che contraddistingue alcune delle forme autobiografiche in atto possa essere una via di riflessione feconda in questo contesto Per questo motivo nel presente contributo osserverò tali film entro alla cornice del dibattito teorico sull'autobiografia e l'autorappresentazione senza dimenticare la rilevanza dell'impatto estetico del fan footage e le logiche di formazione e consapevolezza identitaria che sottendono alle forme di scrittura del sé Non è forse banale ricordare che in molti film citati la spinta verso tale creatività di ibridazione linguistica venga in primo luogo da necessità di ordine produttivo Le esigenze dettate dal low budget con cui fanno i conti molti cineasti e cineaste nel nostro paese e soprattutto quelli più giovani conduce spesso alla manipolazione creativa di archivi edovisivi La necessità di realizzare dei lavori a basso costo che coinvolge spesso le figure meno affermate conduce così a soluzioni diverse messe in campo dai cosiddetti neo-otarchici per utilizzare una nozione proposta da Gianni Canova ovvero quei registi in grado di trasformare la mancanza di mezzi in un valore aggiunto Si tratta evidentemente di affidarsi a espedienti che non prevedano necessariamente l'impiego di risorse considerevoli e a tale meccanismo andrebbe almeno in parte relazionata l'esigenza di lavorare con materiali di archivio e in generale di confrontarsi con il documentario D'altra parte come sappiamo il fan footage viveva oggi un momento estremamente vitale grazie da un lato alla grande disponibilità di archivi edovisivi e d'altro canto allo sviluppo di tecnologie digitali che permettono la manipolazione creativa delle immagini stesse come hanno anche osservato ampiamente Monica Dallassa e Chiarini in un recente studio dedicato a questo argomento Lo confermano altresì alcune delle registre dei film in questione come Elena Marazzi la quale sostiene che si raccontino storie perché è una forma più libera più agile produttivamente e che permette una sperimentazione di linguaggio maggiore che forse ci aiuta a trovare la nostra specificità poetica ed estetica analogamente Giovanna Gagliardo afferma in questo periodo di carestia più che una preclusione c'è un'oggettiva difficoltà a fare dei film quindi il problema esiste e per chi ha l'urgenza chi è giovane ma anche chi non è più giovane come me ma ha voglia di continuare a lavorare a pensare a guardarsi intorno e a voler raccontare quello che ci suggestiona il documentario costa molto di meno e quindi dà la possibilità di quello che si ha in mente tra l'intreccio tra esigenze di ordine pratico e scelte creative concilia la necessità di affermazione professionale con quella di sperimentazione linguistica all'interno della ricerca di un linguaggio della soggettività Alina Marazzi può essere considerata sicuramente una figura cruciale che ha saputo definire una forma di scrittura intima che sapientemente e con consapevolezza riesce ad articolare quella relazione inscindibile fra spazio del privato e racconto collettivo un percorso iniziato come è noto con un orasolativo rei film divenuto una sorta di simbolo delle potenzialità della scrittura soggettiva e che trova nel successivo vogliamo anche le rose un ideale prosegue anche in termini di linguaggio in questo film lo ripeto insomma brevemente si parte dall'idea per citare anche la regista che lo ha dichiarato anche ieri nel corso della masterclass di offrire un ritratto collettivo dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70 attraverso storie e voci di donne diverse a confronto con il tema della sessualità si fa ricorso a diari pubblicità film materiali di repertorio sequenze di animazione l'impianto del film riesce a far parlare la scrittura intima per scardinare la presunta oggettività di ogni racconto storico in una narrazione corale che non divene mai ritratta anonimizzante né tende mai a definire una prospettiva universale è in questa direzione appunto che vengono utilizzati alcuni diari originali del periodo in oggetto conservati alla fondazione archipediaristico di Pieve Santo Stefano dispositivi al crocevia fra spazio privato e dimensione storica e sociale che vengono declinati però sempre al presente quello delle parole delle autrici che scrivono dal diario dispositivo intimo per eccellenza si passa alle immagini di archivio i frammenti vengono inseriti senza dimenticare mai di rispettare la loro componente storica la logica di creazione delle immagini e la loro originale motivazione articolando una particolare etica del fan footage con l'intento di cogliere il più possibile tutta la verità emotiva ed esistenziale di cui la storia è fatta come dichiara ancora la regista con sensibilità simile si intrecciavano fotografie della propria famiglia in un discorso ampio sulla maternità che avveniva nel film Tutto Parla di Te in cui fra i richiami intertestuali e i film precedenti gli elementi autobiografici si imprimevano implicitamente nel corpo testuale non solo nel materiale narrativo ma anche negli inserti sonori recanti alla registrazione della voce della cineasta e nell'inserimento di alcune sue fotografie originali espedienti linguistici foto e voce in grado entrambi di favorire l'accesso a una dimensione soggettiva a partire dalla classica definizione che dava Philippe Legenne definendo possibile l'autobiografia al cinema attraverso proprio l'utilizzo delle fotografie o della voce il film Bellissime diviso in due capitoli Bellissime 1 il novecento visto con gli occhi di lei e Bellissime 2 dal 960 ad oggi dalla parte di lei combina immagini di repertorio estratte di film canzoni insieme a una vasta compagine di immagini provenienti dall'archivio dell'istituto Luce fino agli anni 50 e dell'archivio RAI la regista Giovanna Gagliardo sostiene di aver cercato nelle immagini dell'archivio Luce le figure femminili talvolta di contorno talvolta invisibili per articolare una dinamica fra storia ufficiale e ricostruzione se il primo film si ferma cronologicamente alla fine degli anni 60 con alcuni inserti in chiusura che già aprono al decennio successivo nella seconda parte si fa un passo indietro per ripercorrere le trasformazioni del mercato quelle legislative e quelle culturali in quegli anni l'imperativo racconta la voice over è muoversi andare spostarsi anche da sole prendere velocità all'interno di una trasformazione che prima di tutto mutamentano gli stili di vita appaiono immagini di veicoli a quattro e due ruote lavastoviglie televisioni feri da stiro rossetti e calze ancora aspirapolveri o frigoriferi i consumi contribuiscono a questa accelerazione perché ciò che le convenzioni e le leggi non riescono a fare lo fa il mercato assicura la voice over vediamo avanzare alcune delle rivoluzioni in ambito legislativo politico e sociale che il film si promette di ricordare come il 68 i conflitti generazionali il dibattito su temi come il divorzio e l'aborto il conflitto fra i sessi e quello sociale sono soprattutto il cinema e la musica ai rompere come rappresentazioni premonitrici e sintetiche di un cambiamento culturale pronto ad esplodere per questo motivo il film ci ripresenta le immagini di film come tra gli altri Sedotta e Abbandonata di Pietro Germi o Ado e le Compagne di Antonio Pretrangeli così come le performance musicali della metà degli anni 60 di Mina che interpreta la Brava o Caterina Caselli che canta Nessuno mi può giudicare è nelle immagini cinematografiche che il film rinviene la rappresentazione dei conflitti che talvolta non sono rinvenibili nei materiali di archivio la stampa il cinema e infine la televisione e la loro rappresentazione di un particolare momento storico vengono così sollecitati e messi a confronto Ancora nel corpo delle donne di Zanardo Chindemi Cantù un percorso analogo di recupero trova nelle immagini televisive il proprio ormeggio per ricostruire quale sia stata la rappresentazione mediatica del femminile le immagini televisive selezionate fra gli ultimi decenni del Novecento e l'inizio degli anni Duemila messe in onda da canali generalisti della RAI e dalle TV private si concentrano soprattutto su corpi sottoposti a interventi di chirurgia estetica questi vengono dettagliati o zoomati per saturare completamente lo schermo ed enfatizzare un processo di deformazione risultando stralipanti o a tratti grotteschi ai corpi costretti ai lunghi cappotti e tacchi alti di bellissime o alla novità femminile liberatoria della danza al festival proletariato giovenile con cui si apre vogliamo anche le rose il corpo delle donne propone una diversa lettura del corpo nuovamente imbrigliato Flavia Ventu valetta muta chiusa in una gabbia trasparente del programma libero anni 2000 Onina Moric appesa tra forme di inzaccati nel programma televisivo scherzi a parte a volti che vengono definiti invulnerabili nella loro fissità quelli delle protagoniste femminili fanno da contrapunto le immagini dei volti di Anna Magnani mamma Roma o di Maria Callas in media di Pasolini un primo piano della Callas guarda in macchina interpellando direttamente gli spettatori inizialmente alternato il ritmo rapidissimo ai volti delle protagoniste televisive rimane poi a lungo sullo schermo mentre la voice over enuncia la differenza fra un volto espressivo composito o è un volto statico o tipico al di là delle numerose significative differenze su presupposti e itinerari di questi lavori che oggi non avrò il tempo di coprire mi pare che i film citati finora abbiano in comune alcune rilevanze che qui vorrei proporre brevemente in primo luogo presupposti di ordine pratico se il documentario diventa un'esigenza e una scelta il montaggio è il principio regolatorio di un archivio di immagini tale serbatoio però è sollecitato con una logica inversa a quella comune nel riutilizzo del materiale di famiglia album o film generato con una destinazione privata e reso pubblico in un secondo momento qui i materiali vengono rimontati con una logica affettiva questi ci riguardano e sono percepiti come appartenenti a una storia personale mentre si articola una certa tendenza empatica nei confronti delle figure che appaiono sullo schermo in secondo luogo una rilevanza tematica vi è un'insistenza sugli stessi temi un'urgenza comune e addirittura lo utilizzo in alcuni casi di medesimi materiali immagini o simboli è il caso del ricorso alle figure di Anna Magnani o di Maria Callas che avviene in Bellissime 1 e in Corpo delle Donne dell'insistenza sulle trasformazioni chirurgiche dei corpi di quella sui cambiamenti di costume e di comportamento si tratta di indagare il tema del corpo della sua funzione generativa della sua esibizione della sua rappresentazione mediatica delle dinamiche sessuali che sono messe in campo nelle trasformazioni di una cultura il corpo erotico diviene quindi il luogo simbolico su cui si possono leggere i rapporti di potere le dinamiche di rappresentazione di una cultura dei suoi conflitti e il rapporto fra rappresentazione del sé e sessualizzazione dei media in un paese dove spesso il tema della bellezza è stata una delle strade dell'intera storia identitaria nazionale per usare i termini proposti da Stephen Gandor nel suo studio suddivismo e bellezza femminile nel cinema italiano in terza istanza un'esigenza di riscrittura della storia il rimontaggio dei materiali si fa espediente stilistico di un nuovo modo di raccontare la soggettività che trova nel documentario il territorio di espressione di una storia personale di una sensibilità precisa di una esplicita visione del mondo questi si pongono deliberatamente come se in scena di una memoria soggettiva di un punto di vista emotivo che costruisce il racconto come il complesso di alcune singolarità bisogna riuscire a estrapolare il contenuto segreto di questo materiale attraverso il montaggio significa riscrivere la storia da un diverso punto di vista riarticolare la memoria più lontana o amplificare lo sguardo su quella più vicina ai tempi correnti le testimonianze dirette hanno valore in quanto situate in termini storici di classe razziali eccetera e in questo senso andrebbero guardate per porre il soggetto sempre in termini dialettici e interrogarsi sull'identità stessa intesa come componente mutevole complessa e instabile dell'umano infine via la condivisione in una modalità performativa con un intervento sui materiali che si autodenuncia e in particolare l'utilizzo della voiceover che è in grado di aprire uno spazio temporale tra immagine e suono e di dare un'impronta privata a quanto si vede sullo schermo anche quando si tratta di immagini girate esplicitamente per una destinazione pubblica componente in grado di rimandare direttamente alla singolarità di un individuo la voce parla del soggetto rivelandone elementi come l'età la nazionalità il sesso via un attreggiamento nei confronti delle immagini che è ascrivibile a quella che Bill Nichols definisce modalità performativa del documentario e che privilegia l'aspetto personale e soggettivo con un forte impatto emotivo sullo spettatore o che Cecilia Sayad chiama performing authorship intervento di una figura situata ai confini del testo che evoca il proprio ruolo in modo abbastanza esplicito spesso commentando il mondo filmico in modo critico senza però mai fondersi completamente con esso in questo scenario la più volta accusata voice of god del documentario ritenuta autoritaria in quanto espressione di una posizione di potere e di un punto di vista di conoscenza assoluta sulla diegesi diventa uno strumento di accesso alla soggettività e al contempo il canale principale dell'interpellazione diretta dello spettatore tale dichiarata parzialità di un punto di vista di osservazione non può che assumere anche un valore programmatico avviene uno slittamento da discorso autoritario a discorso autobiografico che si codifica così non più necessariamente come l'espressione di una view of the world di una visione del mondo quanto di un'esplicita view of my world del mio mondo ancora con le parole di Jim Lane si tratta dell'attestazione di un'identità attraverso l'atto di scrittura la rivendicazione della scrittura intima la valorizzazione del punto di vista personale il porsi come soggetto della narrazione non come oggetto diventa che conquista l'identità attraverso la scrittura un passaggio continuo che avviene fra vocazione autobiografica e autoriale esigenza di inscrivere la proposizione storica e anche sociale e artistica nella storia in questa direzione possiamo forse costruire tra questi film un dialogo immaginario aprendo a una riflessione intertestuale articolando una ricorsività nei testi analizzati la documentazione della realtà diventa parte della propria storia mentre la sfera privata si intreccia in modo inestricabile con quella pubblica il pedrominio del soggetto autoriale viene meno a favore di esperienze comuni e appare particolarmente evidente la necessità di partire dal singolare per intraprendere un'azione di ordine politico viene portata avanti quindi una politica dell'intimità nella felice espressione di Ilaria Fraioli montatrice dei film di Alina Marazzi e sua sterta collaboratrice in cui si cerca di rappresentare quanto la dimensione politica sia sempre fortemente connessa a una storia personale e alle emozioni individuali e alle storie collegate un regime profondamente intersoggettivo in cui gli altri le figure familiari le relazioni sociali le comunità di riferimento diventano parte integrante del racconto la narrazione del sé è sempre intesa in una relazione costitutiva con l'altro ed è in grado di reinventare continuamente le categorie classiche di privato intimo e pubblico politico lo spazio autobiografico può diventare quindi anche uno spazio di autoriflessione e di invenzione che riguarda un intero gruppo non un singolo è emblematica mi pare in questo senso un'oscillazione che avviene in questi film a livello grammaticale nell'atto di presa di parola in Bellissime si passa alla terza persona plurale alla prima dal Nessuno le può giudicare con cui si intitola uno dei capitoli della prima parte si passa al Siamo brave pronunciato dalla voice over a seguito di un'esibizione di Brava di Mina un passaggio alla prima persona plurale che torna anche in Il corpo delle donne in cui la voce narrante si rivolge in modo interrogativo a un intero gruppo sociale mentre il montaggio di immagini televisive racconta un palinsesto che ruota attorno all'esposizione dei corpi e domanda a un noi chi siamo cosa vogliamo cosa ci rende felici ancora in Vogliamo anche le Rose si invoca nel titolo del film un noi desiderante e anche Il ragazzo alla vita trema di Paola San Giovanni è un gruppo che si rivolge al titolo del film quello della generazione che il film racconta in un momento in cui la gioventù diventa categoria sociale che rivendica i propri desideri ma probabilmente anche rivolgendosi alla nuova gioventù di spettatori che si affacciano a confrontarsi col film è soprattutto nel caso dei film di Marazzi che la valorizzazione del vissuto singolare riesce sempre a evitare il pericolo di universalizzare l'esperienza raccontata costruendo al contrario i racconti vocati all'eterogeneità in cui si riesce sempre a non proporre una tipizzazione del femminile essi già al loro interno problematizzano la necessità di costruire una pluralità di voci come quella dei materiali eterogenei proposti in voglia manche le rose o tutto parla di te in grado di propagarsi nella authorship plurale di tutto parla di voi progetto in rete nato a seguito del film e a questo ispirato che raccoglie interviste in cui i soggetti recano testimonianza della propria esperienza e delle proprie opinioni sulla maternità componendo nel complesso un mosaico di testimonianze una logica questa apparentemente in contraddizione con il canone autobiografico che fondava la sua rilevanza teorica sulla pura singolarità autore cronologia nome lettore e che si fondava sul patto autobiografico a cui si legava la formula implicita giuro di dire la verità tutta la verità nient'altro che la verità un impianto che si basava su tre valori fondamentali in primo luogo quello che si definisce come valore di verità derivante dalla sincerità delle intenzioni autoriali e dunque dall'impegno dell'autore a dire il vero in secondo luogo il valore di atto secondo il quale l'autore si pone come soggetto responsabile di un processo che illustri il suo carattere e infine il valore di identità stando al quale l'autore, narratore e personaggio sarebbero concentrati in un'unica istanza erano tali vincoli che spingevano la studiosa Elisabeth Brass negli anni Ottanta a sostenere che l'autobiografia al cinema fosse impossibile ed erano i stessi vincoli a essere messi in discussione da alcune formulazioni critiche come quella di autoginografi scrittura autobiografica al femminile conneta da Domna Stanton o del più recente concetto di life writing se non ancora lì quello lì autoritratto come abbiamo già visto facendo la scrittura soggettiva un terreno culturale e politico piuttosto che solamente letterario come al genere che contribuisce alla definizione della soggettività della conoscenza delle differenze dei soggetti in esse l'istanza autoriale forte caratteristica della autobiografia tradizionale che pur con specifiche differenze veniva rilevata dagli suoi siti di campo come un atto di autodeterminazione presa di parola ritaglio sulla pura singolarità cede il passo all'emergere le tensioni maggiormente collettive l'atto di scrittura può essere inteso anche all'interno di una soggettivazione di tipo più ampio dunque un percorso che procede dal personale all'impersonale in un progressivo rafforzamento dell'assunzione di responsabilità mediale e collettiva del soggetto Alisa Lebeau ha parlato in senso ampio di first person documentare documentare in prima persona preferendo tale espressione a quella di documentare autobiografico nel documentare in prima persona vi è in gioco a suo avviso una reciproca ambiguità fra l'io e il noi che trova cittadinanza a livello grammaticale nel dualismo formale della nozione di prima persona a cui in grammatica associamo sia il singolare che il plurale parliamo di prima persona singolare ma anche di prima persona plurale a proposito del first person film quindi Lebeau scrive La struttura grammaticale in prima persona può essere sia singolare che plurale non specificando quale forma debba essere privilegiata permettiamo un riverbero tra l'io e il noi se immaginiamo che l'uno non parli senza l'altro che in effetti l'io è reddito il noi se non viceversa mi ritrovo sempre più persuasa dalla nozione elaborata da Sherlock Nancy del singolare plurale in cui l'io individuale non esiste da solo ma sempre con un altro vale a dire che l'essere non è mai singolare ma implica e incarna sempre un altro questo significa che l'io è sempre sociale è sempre in relazione e che quando parla come fanno i registi in prima persona può sembrare che si tratti della prima persona singolare io ma ontologicamente parlando è sempre in effetti la prima persona plurale noi anche quando crediamo di affermare la nostra individualità esprimiamo sempre anche la nostra pluralità la nostra interrelazione con un gruppo una massa una dimensione sociale se non un'intera società chiudo citazione un cinema of we piuttosto che un cinema of me la comisura di ambiguità è pari a quella linguistica che si evidenzia nell'ambivalenza fra la prima persona plurale e singolare in cui l'io passa agilmente a dire noi mi pare naturalmente che possa anche avvenire il contrario in un'oscillazione dalla pluralità alla singolarità come nei film menzionati finora si tratta di un passaggio inclusivo quindi che non vale solo tra il soggetto che scrive e il gruppo più ampio che inevitabilmente viene implicato ma riguarda anche chi riceve quel testo lettrice lettore spettatore spettatrice nella concezione della soggettività plurale non monolitica né solipsistica che mi sembra pertenga con sempre maggiore forza alle forme di natura autobiografica grazie allora grazie a Laura Busetta molti temi e molte questioni toccate nel suo intervento in qualche modo risuono e riprendono problemi interrogativi emersi negli interventi precedenti soggettivazione performatività intimità esposta questo dire la verità e quant'altro allora io direi insomma siamo arrivati al limite però lascerei anche solo 5 minuti se ci sono domande in sala io qualcuna l'ho fatta prego vieni microfoni qui c'è un microfono ok grazie allora dicevo volevo ringraziare tutti i relatori per relazioni estremamente interessanti piene di spunti e di stimoli poi volevo giusto fare un paio di note a margine invece all'intervento di Lorenzo Donghi dove un po' appunto per interessi e competenze mi sono soffermato sul riferimento erzoghiano e quindi volevo ragionare brevissimamente su questo su questo episodio perché mi sembra che possa anche valere come un exemplum diciamo così interessante trasversalmente allora in particolare ecco mi interessava sottolineare come la complessità dell'operazione di Herzog cioè la figura di Dieter Dangler diventa proprio un nodo in cui si intrecciano varie cose cosa intendo dire primo aspetto nel 97 gira Dieter Dangler needs to fly questo reenactment come hai detto giustamente tu ma allora la cosa interessante da notare è che la figura di Dieter Dieter Dangler era un tedesco nato nel 38 ha subito ha vissuto la seconda guerra mondiale in prima persona dopo la seconda si è appassionato all'aviazione subendo i bombardamenti vedendo gli aerei alleati che arrivavano nel suo paese bombardando dopo di che si è trasferito negli Stati Uniti e ha cominciato la sua carriera nell'aviazione e così via perché dico questo? perché la figura di Dieter Dangler è diventa una sorta di doppio di Herzog Herzog regista tedesco che ha vissuto in Germania è nato nel 42 quindi sono quasi coetane e cos'hanno vissuto insieme? hanno vissuto gli stenti la fame nel periodo post bellico bellico e immediatamente post bellico la fame che Dieter Dangler ha vissuto dopo successivamente riprende la fame che aveva vissuto già durante la seconda guerra mondiale e che aveva vissuto anche Herzog in prima persona Herzog attraverso Dangler rivive anche un suo vissuto ok questo è un aspetto l'altra questione è quella relativa al rapporto tra Little Dieter Needs to Fly cioè il reenactment e dall'altra parte Rescue Dawn cioè invece il film di fiction che ha girato ora qui per essere sintetico la riflessione proviene la farei partire da una domanda cioè se è vero come Herzog ha detto che Little Dieter Needs to Fly è il suo miglior film di fiction allora la domanda diventa allora perché girare un film di fiction se era già quello il miglior film di fiction che poteva girare e qui viene fuori un po' un cortocircuito direi e la risposta forse potrebbe stare in questo cioè anche in questo caso nel rapporto tra questi due film avviene quella sorta di rovesciamento reciproco costante tra documentario e fiction che attraversa tutto il cinema di Herzog cosa intendo dire intendo dire che il reenactment è una ricostruzione quindi una costruzione e anche per certi versi una falsificazione come dice Herzog usa proprio questa questa parola quindi è qualcosa che si rovescia in fiction dall'altra parte quando gira Rescue Dawn cosa succede? Ora vediamola così Christian Bale lo sapete credo per prepararsi al film è dimagrito paurosamente cioè come dire ha vissuto fisicamente in modo radicale quell'esperienza che Dieter Dangler a suo tempo aveva senz'altro vissuto ma che a livello fisico in Little Dieter Needs to Fly non riesce più a rendere visivamente perché per così dire non ha più il physique du rôle no? Quindi Christian Bale in un certo senso in questa operazione di fiction riesce come dire a portare a restituire la traccia fisica corporea di un'esperienza che che invece il Dieter Dangler che rimette in scena la sua vicenda non è più in grado di restituire ed è qui che la fiction diventa si rovescia in un certo senso in documentario in un modo che l'operazione invece di reenactment non riusciva a compiere ok scusatemi tutto qui erano due notte a margine d'accordo allora ci sono altri interventi qualcuno dei relatori vuole intervenire riprendere sfunti dialogare esatto allora se dottorini vuoi dire qualcosa un microfono dai così sì ci andiamo fuori perché perché c'è molto la carne a fuoco abbiamo poco tempo quindi vabbè se vuoi qualcosa ecco quindi se ci abbiamo se vogliamo intanto riprendere io direi siamo ai 5 anche solo 5 minuti ai 10 finiamo posso sì certo sì io volevo fare un discorso più complesso sul concetto di trasformazione liquida del documentario da documento in sé a struttura narrativa drammaturgica cioè da Bauman quindi come vita liquida il documentario si trasforma non è più un documento ma diventa fiction ma perché c'è l'esigenza anche di ristrutturare il linguaggio per l'esterno cioè in modo tale che venga poi come dire anche per il pubblico dove c'è poi un'individualità che si fa caso poi al soggettivo all'oggettivo quindi cioè diventa proprio un diviene proprio narrazione perché c'è anche l'esigenza di un confezionamento anche all'esterno quindi un rapporto più complesso non è più atto performativo che ha in sé anche la struttura del cortocircuito percettivo proprio la diciamo dove il reale o comunque la memoria poi si si confonde cioè il documentario anche nell'aspetto dell'animazione come che so in Kill Bill viene utilizzato come forma di narrazione della memoria del bambino oppure si trasforma per esempio in Walking Life che è una sorta di documentario sui sognatori che è tutta animazione anche se lì c'è un lavoro di come dire del fotogramma che poi viene ripreso e viene si quindi diciamo che il documentario ha ha perso la connotazione di documento vero e proprio e diviene diviene fiction diviene narrazione perché matura una struttura drammaturgica a sé stante nella contemporaneità niente era un una forma di Carmelo vuoi dire qualcosa? la corda è lunga ma insomma la storia del documentario dagli anni venti è fondamentalmente un innanzitutto non era documentario era film la parola documentario nasce nel 26 tutto ciò che noi chiamiamo biografia e storia del documentario sostanzialmente si costituisce entro nel 26 28 fino a quando non diventa una teoria prima è film e tutti i grandi virgolette capolavori di questo genere così vengono tributati in quanto oggetti dove finzione autofinzione costruzione dell'oggetto erano storici c'erano due cose che mi interessavano rispetto alle cose che ho sentito di Lorenzo e di di Laura una cosa su Laura è interessante un fatto che il punto è quando la memoria collettiva diventa una sorta di meme cioè sostanzialmente c'è un passaggio curioso che tocca molto l'arte contemporanea cioè l'arte contemporanea a un certo punto tratta improvvisamente le forme di soggettivazione e però quando usa il cinema spesso vedi non so Gonzales Forst ristallazione alla Tate usa il cinema come oggettivazione il cinema ridiventa mondo oggetto usato anche in forma iconica semplificata potrebbe essere quasi detto con cattiveria non banale ma molto semplice invece le forme alcune forme di soggettivazione dentro il cinema lavorano al contrario in questa costruzione prima di incorporazione di pratiche anche collettive un po' come ha fatto anche la lettera 2 degli anni 60 se vi ricordate Perek comincia a scrivere c'è un testo bellissimo che si chiama Je me souviens dove la memoria collettiva non è più la memoria personale diventa la memoria collettiva gli oggetti gli oggetti collettivi un romanzo come le cose lo stesso funziona così quindi sostanzialmente c'è questo movimento duplice da una parte l'arte contemporanea cerca di soggettivare radicalmente e usa il cinema come oggetto viceversa il cinema in questo momento sta appropriandosi in forma diversa perché poi il montaggio è quello che decide della questione della memoria collettiva facendola soggettiva è molto curioso è un movimento esattamente antifrastico nel lungo periodo profondamente diverso perché è facile dire arte contemporanea e cinema stanno scambiando questi ruoli non è esattamente così l'uso dell'immagine cinematografica è totalmente diverso e questo è una cosa su cui bisogna forse riflettere una cosa su reenactment è che il reenactment è radicalmente storicamente già una forma di spossessamento il perfetto reenactment era quello dei posseduti per Rouch era quello dei posseduti che fondamentalmente in quanto posseduti fuoriuscivano e diventavano questo è un altro elemento sulla corda lunga poi se guardassimo alcuni oggetti di cinema italiano degli anni 50 Antonioni i suicidi reinterrogati da Antonioni che vengono portati nei luoghi dove avevano tentato di suicidarsi innamori in città quell'episodio che oscilla tra il telo il teatro l'intervista di provocazione poi i luoghi da rivisitare e sono tutti suicidi gente che aveva tentato di suicidarsi e non si era suicidata fortunatamente o sfortunatamente di mettere dai loro punti di vista che qui non possiamo tracciare però questa questione è molto interessante perché c'è anche nella storia italiana una questione che secondo me forse visto che ti interessi di questo riguardate un attimo sulle forme di renetment all'interno degli anni 40-50 che sono un po' più sofisticate e che hanno a che fare con Zavattini poi torna sempre Zavattini cioè le questioni del pedimento di Zavattini trovavano in alcuni film alcune questioni e non a caso era l'uomo che cercava Zavattini di stare a cavallo tra la finzione e il documento e il documentario fino a Misteri di Roma allora quella cosa lì non è che bisogna studiare solo quello per poter capire il contemporaneo ma è curioso che nella storia del cinema italiano ci sia questo oggetto molto forte e poco lavorato secondo me ancora oggi che è secondo me interessante probabilmente ripensare alla luce della riflessione che facciamo oggi sulle forme del reale e sulle forme del contemporaneo d'accordo se qualcuno vuole no grazie mi sembra interessante quello che dicevi e secondo me in alcuni di questi film questo sguardo è tu dici oggettivo cioè il cinema utilizzato come quasi un'oggettività diventa a volte anche un po' uno sguardo giudicante ad esempio nel corpo delle donne quando questa immagine ossessiva della Callas o quella della Magnani quindi anche in qualche modo lo sguardo divistico del patrimonio nazionale diventa uno sguardo anche giudicante su corpi invece che sono quelli contemporanei quindi mi sembra che ci sia un utilizzo diverso che avviene poi in questi casi che sicuramente insomma particolarmente fecondo e da su cui riflettere poi un'altra cosa che diceva Roberto De Gaetano a proposito di questa forma dell'incompiutezza dell'autobiografico che mi sembra centrale in qualche modo che è un po' forse quello che nei discorsi di oggi chi ha toccato il tema poi emerge sempre cioè ovvero l'autobiografia è un genere incompiuto per sé perché si dice potrebbe essere soltanto la morte a chiudere il test autobiografico quindi è un genere incompiuto per definizione e mi sembra che in alcuni di questi esempi effettivamente il cinema abbia proprio voluto valorizzare questa forma dell'incompiutezza giocandoci proprio e in qualche modo proprio scardinando anche la scrittura autobiografica d'accordo a questo punto break e riprenderemo le 11.30 grazie a tutti